buongiorno a tutti e ben trovati nell'angolo verde di angela oggi per un video della playlist sos angolo verde come vi ho mostrato alcune settimane fa in un mio video vi metterò comunque il ling nella scuola di mio figlio c'era un albero che reclamava il mio aiuto come vedete è ripiegato su se stesso e sembra quasi implorare l'aiuto di qualcuno aiuto che non è mai giunto allora io non potendo permettere tutto ciò una mattina sono andata con i miei attrezzi per risollevare e sistemare questo albero la prima cosa che ho fatto è stato quello di rimuovere i ramoscelli più piccoli che comunque erano inutili dopodiché ho messo dei paletti di ferro e ho tirato l'albero bloccandolo ai paletti ho sistemato comunque un tutore per sostenere il tronco ho zappettato attorno alla base dell'albero stesso e ho continuato con l'altro a fianco a lui che sebbene non avesse bisogno di molto aiuto gli ho zappettato la terra attorno ho rimosso i ramoscelli alla base comunque inutili e gli ho dato sempre una legatura sfruttando la rete in questo modo questi due alberi cresceranno belli dritti così come la natura li ha predisposti non immaginate quanta gioia provo ogni mattina accompagnando mio figlio a scuola e guardando questi due alberi che sembrano quasi ringraziarmi per l'aiuto che gli ho dato quindi cosa aggiungere più missione sos angolo verde anche questa volta è conclusa come sempre io vi invito a iscrivervi al mio canale a commentare a condividere i miei video con i vostri amici se avete delle domande non esitate a contattarmi nella mia pagina facebook di cui trovate il link mentre se avete dei problemi con le vostre piante descrivetemelo ed io eventualmente realizzerò un video per aiutarvi non mi rimane a questo punto che salutarvi e come dico sempre alla fine di ogni video ciao e una buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti